Buonasera a tutti dal GUSCHET, buon martedì. Questa sera vi propongo un secondo filmato per una seconda recensione di orologi, ovvero il secondo orologio che acquistai insieme al Citizen Super Titanium. Devo dire che il Citizen Super Titanium è un buon orologio portandolo fa un buon impressione, leggero, sembra quasi che non avevo il polso e comunque ha delle caratteristiche che mi sono piaciute. Vedi l'eco drive, vedi il quadrante, le finiture, il fatto che sia tutto in titanio, eccetera. Ma quando acquistai questo orologio qui avrei in mente anche un altro orologio e cosa è successo? Mi hanno fatto un bel prezzo per tutti e due gli orologi, per cui ho detto vabbè una volta nella vita facciamo il salto, proviamo, tanto non succede niente. Un orologio alla fine può essere un bel ricordo per anche tenerlo in un bel oggetto, per tenerlo anche in casa. Poi se ogni tanto uno lo porta, tanto meglio. Allora, l'orologio in questione è un orologio meccanico, subacqueo, diciamo che è un diver sui generis, secondo me. È un diver ma non è proprio un diver come si intende, è particolare come linea. La marca è Lorenz e la serie di questi orologi era la Aquitania. È una serie di orologi nata tra il 2007, se non vado errato, fino al 2011-2012, credo, quegli anni lì. Ambraccia quel periodo lì. Adesso può essere il 2008, può essere il 2010 la fine della produzione, ma più o meno siamo lì. Di questo orologio in particolare, potete cercare su internet, si trova pochissimo, anche fotografie, poche fotografie, si trova pochi filmati, anzi nessuno, dire la verità. In rete anche come vendita, tra ebay e amazon, trovi poco. E se anche trovi altri siti, sono ridondanti, è lo stesso orologio messo su altri siti. Quindi, secondo me, non è che ne abbiano venduti tantissimi, almeno in Italia, poi non so all'estero. Questo orologio in particolare è una versione in titanio con cinturino in gomma. E ha praticamente il movimento solo tempo. E il movimento dovrebbe essere un ETA 28-24, serie 2. È un movimento svizzero, abbastanza importante, utilizzato anche da tantissimi altri modelli di altre case. E ultimamente, da come ho cercato in rete, dalle notizie che si hanno, si sanno, è un movimento che in questo momento non viene utilizzato da nessun altro, tranne che dal gruppo Swatch. Perché, praticamente, quando poi la Swatch ha radunato tutti i suoi marchi, ha comprato anche la ETA, la grande conduttrice, e non ha più dato la possibilità di vendere i movimenti ad altri, di utilizzare all'interno dei suoi marchi. Invece, come si chiama, quando è uscito quel Lorenz lì, la ETA non faceva ancora parte, evidentemente, del gruppo Swatch, quindi vendeva anche a terzi. E quindi la Lorenz, per fare una linea un po' pregiata, con movimento svizzero importante, perlomeno famoso, una cosa valida, ha, praticamente, fatto la linea Aquitania, almeno una delle modelli, lo ha fatto utilizzando il movimento 28-24. Niente, altro da dire, passiamo alla recensione, almeno da vederla, almeno potete vedere l'orologio come fatto, e chi vuole potrà intervenire, darmi i consigli in merito, e se vi sono dei dubbi, magari chiarirvi dei dubbi, perché tutto, tutto non sono riuscito a reperire. A me l'orologio piace, poi può essere un design discutibile, ma l'importante è che piace a me. Ok, passiamo alla recensione. Ecco qua la presentazione dell'orologio. Dunque, la scatola, come potete vedere, è una scatola nera di legno, fatta molto bene, laccata con la scritta Lorenz. Ovviamente, sotto questa scatola, la Lorenz forniva anche una copertura di cartone che io ho tolto, e adesso vediamo l'orologio. Si apre così, tac. Ecco qua, l'orologio si presenta in questa maniera, ha un cuscinetto di materiale tipo valluto, e l'orologio è questo qui in questione. Adesso lo togliamo dalla sua posizione, ve lo avvicino. Allora, dunque, questa è l'Aquitania di cui parlavo. Come dicevo, la versione di questo orologio, presumo che sia tra gli anni 2009-2011. Questa versione qui è una versione titanio, cassa in titanio completa, con cinturino in gomma. Cinturino in gomma di buona fattura, bello spesso, con praticamente le fibbie, una di gomma e l'altra di materiale, sembra anch'esso titanio, lucidato con la scritta Lorenz. Attacco d'artiglione. E la cassa, come potete vedere, dell'orologio è tutta lucida sulle parti laterali, mentre la parte superiore, compresa la ghiera, è satinata opaca. una lavorazione, diciamo, lineare, nulla di... fatta molto bene, ma diciamo abbastanza semplice. Diciamo che tutto sommato, la linea è molto lineare, molto semplice. La ghiera, la corona della ghiera è fatta sempre in titanio, non è colorata. i numeri sono, penso, fresati. E il diametro della ghiera è praticamente equivalente col diametro della cassa, non sporce, anzi, è leggermente interno. Possiamo vedere la corona a vite col marchio Lorenz. Il quadrante è un quadrante abbastanza semplice a livello estetico, anche se comunque elegante, ovvero ha i numeri principali, 6, 9, 12, manca il numero 3 perché vi è la finestrella della data, e poi vi sono delle tacche intermedie per i numeri intermedi delle ore, tutti ricoperti con Luminova, comprese le lancette e anche l'indice dello zero della ghiera. Ho già potuto vedere che di notte sì, è molto ben visibile, sempre a patto che prenda tanta luce per potersi caricare, logicamente. il movimento utilizzato è un'età 28-24, l'impermeabilità dichiarata è 300 metri come potete vedere, adesso poi se è tutto veritiero sinceramente non lo so, però presumo di sì, poi sempre guardando il quadrante si può notare una serie di numeri dei minuti posti nella circonferenza esterna del quadrante. Adesso potete notare questa lavorazione di queste scanalature che riprendono il disegno del braccialetto del cinturino, poi qui vi sono quattro viti che presumo servono per fissare la parte dell'ansa perché questa ansa qua secondo me se uno svita la può togliere per poter applicare il braccialetto il braccialetto di metallo. Adesso se lo apriamo vediamo com'è ti faccio vedere il fondello che è un fondello chiuso comunque ci potrete notare la scritta da Lorenz adesso lo giro così Aquitania Lorenz Aquitania vetro zaffero resistente di preesistent movimento Swiss made potete vedere la referenza e il fatto che il movimento è un 28 24 30 bar c'è un disegno di un nodo marinaro diciamo che la finitura anche della parte del fondello la parte sottostante della della cassa è tutta satinata tranne appunto le parti laterali che sono lucide il titanio utilizzato secondo me non è a livello di finiture e di trattamento come quello del del citizen comunque tutto sommato fa la sua figura ovviamente è molto sensibile ai graffi anche se questo orologio io l'ho comperato come nuovo perché era in vetrina esposto e niente c'è la sua garanzia e tutto che dire l'orologio a me non mi dispiace affatto perché se no non l'avrei preso e secondo me può essere diciamo considerato come un pezzo abbastanza raro della linea Lorenz anche perché adesso gli orologi dell'ultima serie Lorenz sono belli e nulla da dire però secondo me come qualità e come diciamo equilibrio tecnico tra finiture movimento e tutto complesso dell'orologio non raggiungono la qualità di questo questo secondo me è un orologio visto il prezzo di destino originale può essere praticamente tranquillamente confrontato con un buon Hamilton un buon Citizen un buon Seiko non ha nulla da invidiare a questi orologi logicamente non è un orologio di altissima gamma eccetera però per diciamo iniziare una collezione direi che per il prezzo che l'ho pagato può andare molto bene come precisione dalle regolazioni fatte è molto posso dire che è molto preciso diciamo che fatta così una cosa a occhio senza tanti strumenti e potrà perdere quei 5 forse 10 secondi al giorno ma secondo me è più preciso di 5 sta anche al di sotto diciamo che è ampiamente più preciso rispetto il margine minimo e massimo che ti dà la casa spero che la cosa piaccia e spero che ci sia qualcuno in rete che mi sappia dare informazioni più precise in merito a questo modello a questo modello in questione anche perché ripeto che l'orologio in sé in rete è pochissimo recensito anzi addirittura non si trova quasi nulla quindi buonasera a tutti buon orologio a tutti concludendo posso dire che la recensione è finita così spero che sia di vostro gradimento e spero di avere appunto come ho detto nel video delle informazioni supplementari sul tipo di orologio posso dirvi che prossimamente se capiteranno occasioni di orologi anche di non proprietà vedrò di fare qualche recensione sempre in merito le mie capacità e la mia esperienza che comunque negli orologi è agli inizi anche se comunque da diverso tempo che seguo il mondo degli orologi quindi comincio a avere un'infarinatura quindi buonasera a tutti e alla prossima ciao ciao